Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Le tensioni a Temptation Island non tardano ad arrivare e, come previsto, Anna e Alfred sono i primi protagonisti di questa edizione. La coppia, insieme da un anno e nove mesi, sta attraversando un momento particolarmente difficile, segnato da un tradizione che Anna ha scoperto di recente. Nonostante Alfred abbia confessato tutto, Anna è incapace di lasciarlo andare, e la loro relazione sembra ormai sull'orlo di un precipizio. Durante la prima puntata, Alfred non ha perso tempo a buttarsi nella mischia e ai far parlare di sé. Tra risate, balli scatenati e sguardi complici, il giovane sembra aver trovato un'intesa speciale con la tentatrice Sofia. «Le uniche persone che tengo nella vita sono mia madre e mio fratello», ha dichiarato Alfred, suscitando non poca confusione nei telespettatori. La sua freddezza verso Anna appare sempre più evidente, e quando la ragazza vede i video nel famigerato pinnetto, non riesce a trattenere le lacrime. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. Tornando al dramma, Anna, devastata, commenta con rabbia, «sei un pagliaccio». «Mi fai schifo». «Non mi risponde mai ai messaggi». «Io non ho mai ricevuto un suo messaggio, sei arrivato a casa?» «Mi sto vergognando». Le sue parole riflettono la delusione profonda per il comportamento di Alfred, che sembra sempre più lontano e coinvolto nel flirt con Sofia. Il culmine della tensione arriva quando Anna riceve un terzo video dal conduttore Federico Bisciglia, che mostra Alfred e Sofia sempre più vicini. La complicità tra i due è palpabile, e la scena del bacio quasi sfiorato è un colpo al cuore per Anna. «Mi sto vergognando». «Quanto mancava un bacio». «Questa persona ci pensa che fino a una settimana fa era a tavola con la mia famiglia», commenta, sconvolta e umiliata. Alfred, da parte sua, appare confuso e incapace di gestire la situazione. Nonostante la relazione con Anna sembri ormai arrivata al capolinea, lui continua a giustificarsi, dichiarando di non sentirsi più libero. Anna, distrutta, vede il suo mondo crollare e non sa se riuscirà a perdonarlo questa volta. Voi cosa non pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video. Grazie. Grazie.